Mancano pochi giorni, il 10 maggio inaugureremo qui nel Teatro Greco di Siracusa le Troiane con la regia di Muriel Mariette Holtz e la nostra scenografia. Sarà, io credo, una sorpresa perché abbiamo cercato di costruire una presenza scenica che fosse più un paesaggio che un'architettura, portando 400 dei tronchi schiantati dalla Tempesta Vaila il 31 ottobre scorso, dal Friuli fino alla Sicilia.